Un saluto a tutti voi miei cari amici dei social del canale youtube Filiopodio 65 Aquila Scoop e grazie per essere in mia compagnia. Di cosa andiamo a parlare oggi? Oggi andiamo a parlare di come stanno davvero le cose per quanto riguarda il programma che dovrebbe partire fra un paio di mesi quindi la talpa. Che cosa è successo a programma la talpa? Se voi ricordate bene durante l'ultima conferenza stampa di Persibio Berlusconi aveva detto che Ilari Blasi quindi non era nei palinsesti anche perché sta finendo il programma con grande successo battiti live registrato in Puglia che va in onda su canale 5 l'anno scorso era su Italia 1 quest'anno va su canale 5 insieme ad Alfin e a Rebecca Staffelli la figlia di Valerio Staffelli senza dire niente altro disse quindi sta lì quindi sta sta con noi e è contrattualizzata con noi e la nuova presentatrice conduttrice della talpa sarà Diletta Leotta abbiamo fatto grande acquisto Diletta Leotta che prenderà amici miei 100 mila euro a puntata quindi un contratto di 600 mila euro per sei puntate una delle più pagate di Mediaset. A questo punto a questo punto quando tutto sembrava già fatto succede l'imponderabile. Ilari Blasi se esce con una intervista e dice ho detto io no alla talpa perché sarà un flop pazzesco. Che cosa è successo allora? E perché Ilari Blasi se ne esce con questa intervista distruggendo di fatto quindi Per Silvio Berlusconi. Per Silvio Berlusconi ha detto no ho detto io e infatti Ilari Blasi spiega che cosa è successo e io ve lo vado a dire pari pari perché ancora una volta Per Silvio Berlusconi come dal solito ha fatto un buco nell'acqua. Il programma la talpa sarà registrato nei prossimi giorni ancora non sanno ma si dice la Sardegna e andrà in onda da ottobre su Mediaset infiniti. Immaginate prima su Mediaset infiniti e poi sul canale 5. Alla conduzione ci sarà Diletta Leotta che percepirà circa 100 mila euro a puntata. A Ilari Blasi ne sono state offerte 200 mila euro per tutta la registrazione quindi meno della metà. Ilari Blasi ha rifiutato la conduzione proposta da Per Silvio Berlusconi e dice il progetto non mi ha convinto. Ilari dice si tiene stretto il successo inaspettato di Battiti Live su canale 5 con Alvin e Rebecca Staffelli quindi girato nelle piazze della Puglia con uno share medio del 25 per cento di share quindi molto alto. La talpa è sempre più vicina torna dopo 15 anni dal 2009 condotta allora da Paola Pelego. Si tratterà di uno spy game quindi con concorrenti famosi punto interrogativo e vediamoli insieme dopo sono famose. Poi mi dite voi nei commenti se li conoscete o meno. Questa volta in versione lo cost tipo Temptation Island quindi Per Silvio Berlusconi vuole sfidare Maria De Filippi sul campo. Maria De Filippi che fa oltre il 30 per cento e addirittura il 47 per cento con Temptation Island quindi nella fascia di età 15-29 anni viene sfidata da Per Silvio Berlusconi sul campo dei format. Quindi sarà fatto low cost senza uno studio fisso conduttore nuova come ho detto. Le puntate saranno registrate con un certo anticipo e poi trasmesse su Mediaset Infinity dopo sul canale 5. I concorrenti della talpa ditemi voi se ne conoscete uno o meno che sia ancora famoso per carità qualcuno lo è stato ve lo vediamo insieme e poi dite i vostri commenti. Abbiamo Joe Squillo che aveva fatto il grande fratello ricordate. Poi dite voi la conoscete Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, questa la conosco io, questa è una schermitrice ed è anche campionessa olimpica quindi è una molto brava nello sport, è stata molto brava nello sport. Quest'altro voi lo conoscete Orian Iciachi, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, la gatta morta del grande fratello, il primo grande fratello quello di Piero Tarricone. Nicola Ventola quanto pare non ci andrà più perché preferisce a questo punto stare con i suoi amici Lele Adani e Antonio Cassano sui vari social e fare calcio. Marco Melandri che ha fatto l'isola, questo portava le moto un tempo. Marco Berri, qui lo conosci, io non conosco. Alessandro Egger, lo conoscete? Bo. Gil Rocca, sì questo fa tale quale show, ha fatto qualcos'altro, ha fatto anche l'attore. Veronica Peparini, io metto le mani avanti, non so chi sia. Andreas Muller, sì è un ballerino, lo conosciamo eccetera. Quattro sono già in dubbio, quattro sono già in dubbio, soprattutto Nicola Ventola che ha detto no, ha detto no, non verrò più alla talpa e preferisce sbarcare con i suoi amici su Twitch con Lele Adani e Antonio Cassano, quindi con viva il football dal 19 agosto. La società che produce la talpa, la Fremental, dice rassicura tutti state tranquilli, andrà tutto bene anche se qualcuno si tira indietro. Sarà l'ennesimo flop targato per Silvio Berlusconi? Sentite cosa dice il ribasi. Io ho detto no alla talpa perché non mi ha convinto né il progetto né dove viene fatto e per questo ho detto no. Sono stato io a dire no a Piazzivio Berlusconi, anche perché tra poco sbarcherò al cinema con un film con Giampaolo Morelli, l'ex ispettore Caliandro, che voi ricordate bene, e poi sto per preparare quindi a Positano, ho fatto già delle istruzioni a Positano per 2 milioni di euro su Netflix, gli ha dato 2 milioni di euro la seconda docu serie, quindi dopo non si chiamerà più Unica, quindi avrà un altro nome e già appunto. Quindi se questa già vuoi dire prendi 2 milioni di euro da Netflix, farà un film con Giampaolo Morelli eccetera, potete immaginare voi che sarebbe mai andata a fare la talpa e perché dite andata a Diletta Leotta? Perché amici miei, Diletta Leotta lavorava per Dazzono e Dazzono sta in bruttissime acque, non paga gli stipendi ai suoi giornalisti di sport, degli eventi eccetera, da più di un anno ne è stata costretta Diletta Leotta sulla proposta di Positano Berlusconi ad andare a condurre la talpa, o quella o niente. Quindi questa ancora è una sciagura per Positano Berlusconi che ancora una volta viene smentito sul campo, quindi da una sua contrattualizzata, che dice sono stata io a dirti no, non voglio fare la talpa perché dopo il grande fratello, dopo l'isola, la pupa e il secchione e tutte le cazzate varie, questa qua sarà un altro grande flop. Amici miei, questo era il video di oggi, se vi è piaciuto, come sempre, un bel segui per quanto riguarda i social e iscrivetevi al canale YouTube Filippoio 65 Aguilas Cup. Mi raccomando il like, i commenti, la campanellina per avere la notifica. E come dico sempre amici miei, più siamo meglio è, più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene, alla prossima!